consigli non mi va di pagare i consigli è un lavoro che non costa niente e deve servire per migliorare il nostro tenore di vita non per soffocarci purtroppo sono circondato dagli avidi che cercano di sfruttare la situazione facendosi pagare un consiglio cosa che io ho sempre fatto senza pretendere nulla soltanto per il piacere di essere vicini in questo modo di essere tutti ci allontaniamo perché pensiamo di saperne più dell'altro si finisce per essere sempre più soli e di non appartenere a questo mondo ma quello che ci inventiamo è una continua tiritera che si ripete fra noi che cerchiamo quello che non esiste e incolpiamo sempre l'altro quando l'altro siamo noi stessi conclusione è facile scaricare le colpe il difficile è saperle risolvere da soli i veri consigli bisogna saperli trasferire